Le ultime indiscrezioni su Francesco Totti lasciano tutti senza parole. Dopo la fine del matrimonio con Hilary Blasi, sembrava che il pupone avesse ritrovato la serenità al fianco di Noemi Bocchi. Tuttavia, D'Agospia ha lanciato uno scoop che potrebbe cambiare le carte in tavola. A quanto pare, ci sarebbe una nuova fiamma nella vita dell'ex capitano della Roma, anticipando un servizio esclusivo del settimanale Gente. Domani in edicola su Gente, verrà pubblicato un servizio che paparazza Totti in compagnia di Maria Luisa Jacobelli, volto noto nel mondo dello sport e della televisione. Secondo la rivista, la Jacobelli avrebbe confermato la relazione con l'ex calciatore. I due sono stati avvistati a entrare insieme in un hotel di Roma, per poi uscirne circa un'ora e mezza dopo. Quando la redazione ha contattato la Jacobelli, lei ha confermato 2 più 2 fa 4, se ci sono le foto è evidente. La Jacobelli, giornalista sportiva e figlia di Xavier Jacobelli, direttore di Tutto Sport, non è nuova al mondo del gossip. In passato ha ammesso di aver avuto una relazione con Kilian Bappe. Ma la domanda rimane, Francesco Totti ha davvero lasciato Noemi per Maria Luisa. La risposta della diretta interessata lascia pochi dubbi, ma per molti la situazione è ancora poco chiara. Non ci resta che aspettare ulteriori sviluppi.